Ciao, sono Stefania Gallucci, biologa nutrizionista specializzata in dimagrimento rapido e localizzato e oggi voglio parlarti della consulenza online. Un metodo innovativo in questo periodo di estrema urgenza per tutti noi può essere una valida alternativa. Da quanto tempo non hai il coraggio di pesarti sulla bilancia? Qual è stata l'ultima volta che hai aperto l'armadio e avevi una grandissima voglia di indossare quell'abito? Ti svelerò che oggi con il mio metodo personalizzato potrai ottenere grandi risultati. Con il servizio di consulenza online ti basterà contattarmi e avremo la possibilità tramite videochiamata per cui avrei bisogno solo ed esclusivamente del tuo telefono di entrare in contatto con me per seguire un percorso di dimagrimento rapido e localizzato. La mia dita per cui potrà essere eseguita in tutta Italia. Potrai perdere dai 4 ai 10 chili in un mese senza soffrire la fame. Se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici. Alla prossima!